attenzione attenzione il prezzo di terra luna classic come possiamo vedere anche in sovraimpressione sta scendendo sempre di più stiamo vivendo un dump negli ultimi giorni ci ritroviamo terra luna classic a 0,30 38 54 tra poco vi spieghiamo alcuni dei motivi per cui sta scendendo di valore terra luna classic vi ricordo che per esempio il 9 di settembre avevamo raggiunto un prezzo di 0,30 58 65 e oggi vi spieghiamo naturalmente tutto quello che sta accadendo e cosa potrà cambiare in positivo per terra luna classic però prima di andare avanti come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi contenuti come questo detto questo come possiamo andare anche ad analizzare all'interno di terra station vi ricordo che è stata appunto data la possibilità all'interno della governance di poter votare per quanto riguarda la tax bar nell'1,2% con i parametri un po' cambiati e cliccando all'interno di questo link ok come possiamo anche andare a leggere praticamente all'interno del link stesso abbiamo la possibilità di capire e comprendere che il tax bar non sarà più il 12 settembre quindi oggi doveva avvenire ma avverrà più o meno il 20 settembre ok e quindi all'interno di questa notizia potete andare a leggere un po' tutti i dettagli vi ricordiamo naturalmente cosa fondamentale che è binance e l'abbiamo fatto vedere anche nel video di sabato ha comunicato che praticamente accetterà il barn per quanto riguarda i prelievi depositi quindi se noi depositiamo all'interno di binance dalla rete terra classic ci sarà una detrazione fiscale dell'1,2% detrazione fiscale qui lo scrive perché lo traduce in italiano ma in realtà non c'entra niente nel senso è la tax bar del protocollo che entrerà in vigore al 20 settembre e se preleviamo da binance ci sarà di nuovo questa tax bar quindi comunque in qualche modo binance partecipa a questa tax bar che dovrebbe avvenire il 20 settembre 2022 all'altezza del blocco terra classic 9.475.200 cosa però molto importante e questo ha fatto storcere il naso tantissimi investitori è che il trading spot e con margine per l'UNC e USTC così come i servizi pertinenti su Binance Air come Binance Staking e Binance Savings non saranno non saranno interessati da questo consumo di tasse questo cosa vuol dire che se io vado all'interno della sezione markets e vado a vedere qual è il mercato dove viene scambiato di più Binance all'interno degli scambi di Luna Classic e Binance quindi comunque l'exchange numero uno per quanto riguarda i trade di Luna Classic è appunto Binance se noi andiamo a togliere Binance stiamo togliendo una grande fetta di mercato che ci permette di velocizzare quello che è l'obiettivo che vi ricordo andando qui in basso nella max supply o nella supply circolante più che altro possiamo vedere che in questo momento siamo a 6 bilioni e 151 miliardi quindi 6 mila miliardi e l'obiettivo è eliminare questo 6 eliminare questo 1 e da 51 passare a 10 voglio anche dire che questo è un commento che avete lasciato in tanti e vi invito a vederle queste cose prima di scrivere un commento in Italia questi sono bilioni ok non siamo negli Stati Uniti d'America non siamo quindi in terra inglese non siamo in terra statunitense non siamo all'estero non siamo in qualsiasi altra nazione siamo in Italia e in Italia questi sono bilioni ok questa è una cosa molto importante che volevo sottolineare detto questo una cosa che vi voglio far analizzare all'interno di questa notizia che vi do un consiglio andatela a leggere nel dettaglio Terraswap e Astroport si sono impegnati a sostenere la tassa tutte le app di ripristino dovrebbero funzionare come previsto è praticamente il contro che Angkor e Bridge sono già stati interrotti e lo stato degli NFT è sconosciuto quindi da questo punto di vista diciamo che ci sono alcune notizie positive alcune negative allora secondo noi sta crollando un po' il prezzo perché molti si aspettavano il 12 settembre anche se comunque da qualche giorno è stato annunciato il 20 settembre la notizia di Binance ha fatto storcere il naso perché molti hanno detto ok vi deposito i prelievi ma abbiamo due problemi in primis che il trading non c'è ma nel caso in cui venisse messo il trading e qui è un problema su cui molti non ci hanno ragionato è che essenzialmente se tu come al di là di Binance tutti i checks quindi tutti gli exchange centralizzati iniziassero a tassare sia per i depositi per i prelievi quindi 1,2% sia per gli scambi e leggiamo questa cosa insieme e non è stupido quello che ha scritto questo utente qualcuno che acquista su un checks soggetto all'1,2% of chain e vuole puntare su terra è soggetto a 2,4% perché praticamente cosa succede? succede che io compro terra all'interno di Binance se Binance accette naturalmente il bar quindi già spendo l'1,2% in più quando invio un altro 1,2% in realtà sono stato tastato del 2,4% e questo naturalmente viene considerato eccessivo per quelli che sono i checks tipo Binance le soluzioni che dà quest'utente secondo me non sono malvagie nel senso che o si può modificare l'1,2 con qualcosa di più basso ad esempio lo 0,6 ma arrivati a questo punto la vedo un po' complicata o semplicemente chiediamo ai checks di implementare un altro 0,6% of chain e 0,6% per quanto riguarda i trade magari quindi significa che si arriva all'1,2% andando a sommare queste due cifre perché effettivamente è così c'è questo problema che naturalmente attenzione può essere positivo perché si arriva più velocemente nel caso in cui Binance accetti di barnare anche con i trade ai 10 miliardi e questo cosa vuol dire potenzialmente le persone naturalmente avranno dei token in mano che probabilmente andranno a valere di più però attenzione la notizia di oggi clamorosa è proprio questa perché cosa è successo? LungDAO che vi avevamo fatto vedere anche in qualche video precedente quando si dovevano scegliere i valitatori dove vi dicevamo non scegliere i valitatori che hanno il potere di voto più alto ma andate a premiare anche quelli che hanno un potere più basso così rimaniamo decentralizzati all'interno dell'ecosistema ha creato questo post e Binance vedete che ha risposto proprio questo ciao abbiamo introdotto un consumo fiscale quindi un tax bar nell'1,2% per le transazioni on chain esattamente secondo la proposta quindi Binance dice questa è la proposta e noi abbiamo accettato di seguire quella proposta saldiamo la maggior parte delle transazioni al di fuori della cadena e questo rende difficile la riscossione dell'imposta tuttavia monitoreremo da vicino l'effetto del cambiamento e potremo rivedere la decisione quindi a questo punto di vista che cosa hanno voluto dire? hanno voluto dire essenzialmente che potrebbero cambiare la loro decisione infatti naturalmente gli investitori di terra sono arrabbiati vedete per questa decisione di Binance dopo che Binance ha affermato quindi che si unirà a questo bar ma solo per i prelievi e depositi la maggior parte degli investitori non hanno apprezzato questa cosa ed è per questo che magari molti hanno iniziato a dubitare di quello che può essere il progetto di rinascita di terra luna anche perché comunque il calo è sotto gli occhi di tutti ce l'abbiamo avuto ed avendo ce l'ha avuto questo calo questo dump che comunque non è trascendentale perché vi ricordo che nell'ultimo mese se io vado ad analizzare ci ritrovavamo a 4,089 adesso ci ritroviamo a 3,037,62 ma naturalmente ripeto dipende anche cosa vogliono fare gli exchange centralizzati che sono una parte importante secondo noi in questo momento per velocizzare quello che è il barn e quindi se exchange come Binance, Cucon, Gate.io eccetera eccetera accettano di poter barnare ok l'1,2% è anche Crypto.com attenzione questo barn sarà molto più veloce rispetto a farlo nel decentralizzato dove attenzione in questo momento non è che le DAP per quanto riguarda Terra Luna Classic sono incredibili ok perché vi ricordo che in questo momento quello che stanno facendo all'interno di Terra Luna al di là di chi crede in Terra Luna Classic è puntare sul nuovo Terra Luna ok dove si trova in questo momento una posizione 69 per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato ok quindi ha avuto una crescita molto importante e ha avuto anche un pump il token stesso andiamola a vedere nell'ultimo mese guardate qui ce lo siamo ritrovati così boom subito un grande pump ok vediamo invece la posizione di Terra Luna Classic si trova alla posizione numero 30 addirittura e quindi sta crescendo in maniera esponenziale ok quindi in questo momento Terra Classic è messo meglio di Terra Luna ma per quello che è stato comunque il fork e l'aggiornamento che hanno fatto a maggio loro stanno puntando su quello che è il nuovo Terra Luna quindi anche le DAP eccetera quindi da questo punto di vista dobbiamo vedere bene questa situazione su come si evolverà perché le DAP per un sistema un ecosistema come quello di Terra Classic saranno fondamentali ok al di là del discorso del tax bar perché poi è ok va bene c'è il tax bar non diminuisce la moneta eccetera ma qui dobbiamo decidere se vogliamo speculare o vogliamo creare un ecosistema attorno a Terra Luna Classic se vuoi creare un ecosistema florido le DAP, il decentralizzato, la possibilità di avere protocolli è fondamentale questo lo sappiamo quindi vediamo stiamo a vedere naturalmente io vi ricordo avevamo fatto un video sulle 5 cripto secondo noi su cui si poteva investire a settembre 2022 naturalmente noi non siamo consulenti finanziari quindi abbiamo detto quello che abbiamo fatto noi e chi ha investito in Terra Classic quando l'abbiamo detto non abbiamo detto investito abbiamo detto noi investiamo e chi ha venduto anche ora anche ora che c'è il dump che c'è stato un piccolo dump comunque ha fatto un guadagno incredibile quindi ci abbiamo preso alla grande quindi comunque dal punto di vista speculativo è stata una buona operazione ora bisogna vedere quello che accadrà nei prossimi giorni noi vi aggiorneremo certo è che la cosa che ci fa ben sperare per quanto riguarda Terra Classic è la community che è ben coesa e che crede nel progetto che l'ha portata alla posizione 30 e qualche mese fa si trovava alla posizione 200 e passa forse 300 per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato quindi gli scambi sono incredibili da questo punto di vista è quello che sta avvenendo comunque qualcosa che era insperato rispetto a quello che era successo visto comunque naturalmente che in pochi potevano credere a maggio che si poteva essere anche una minima rinascita di Terra Luna Classic come sempre vi chiediamo di lasciare un commento e dirci cosa ne pensate da questo punto di vista se secondo voi è fondamentale è vitale che Binance possa accettare questa tax burn e qual è il prezzo che voi vedete alla fine di questo mese Terra Classic quindi secondo voi a che prezzo arriverà Terra Classic alla fine di settembre e qual è invece il vostro prezzo target a quale voi pensate di andare a vendere se secondo voi arriverà a quel prezzo target noi ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto